questo è lo strumento più pratico e più veloce per realizzare i fori a tasca in particolare di fori realizzati sulle superfici delle assi di legno che vanno unite fra di loro sia affiancando le oppure perpendicolari si può utilizzare durante la realizzazione di alcuni progetti o anche per riparare per esempio dei mobili eccetera vi farò vedere come funziona semplicissimo molto pratico da utilizzare ma che permette di ottenere dei risultati che altrimenti non si potrebbero ottenere e della in joywood io ho già fatto conoscere di questo marchio degli ottimi incisori laser ragazzi in joywood sta puntando sulla qualità con dei prezzi che sono accessibili anche gli hobbisti ma che sfiorano quasi il professionale per esempio gli incisori laser hanno dimostrato di lavorare molto meglio degli stessi tipi di incisori laser di altri brand curati nei dettagli curati tecnologicamente con dei risultati disarmanti questo fa lo stesso adesso ve lo farò vedere vi farò vedere le applicazioni pratiche vi lascerò anche il link per poterlo comprare sul sito banggood che me l'ha inviato e a proposito ho appena creato un gruppo che riguarda gli incisori laser in generale quindi l'utilizzo anche del software lightburn se vi piace quel mondo iscrivetevi quel gruppo vi lascio del link nel primo commento e nella descrizione adesso però mettiamolo sul bancone guardiamo come funziona mettiamola la prova e vediamo di cosa è capace iniziamo e allora sul piano di lavoro quindi abbiamo il nostro strumento la scatola con cui viene venduta in joywood che trovate il sito banggood al prezzo orientativo di 60 a 70 euro i prezzi variano come sapete sul web sono sempre ballerini ma vi lascerò comunque il link ed eventualmente un codice di sconto vi ho già recensito diversi gig per poter realizzare fuori a tasca questo è quello più completo e più facile da utilizzare allora vediamo cosa troviamo all'interno della confezione innanzitutto un rapido manuale di istruzioni scritto però in questo caso solo in inglese ma mi viene inviato direttamente dall'azienda quindi ipotizzo che potrebbe arrivarvi anche col manuale di istruzioni pure in italiano comunque l'utilizzo è molto semplice quindi lo strumento con un accessorio più troviamo questo inserto molto lungo adesso vi spiegherò cosa serve ma viene inviato un inserto con l'intaglio quadrato io vi consiglio di acquistare un inserto comunque abbia una punta a croce che sia pz oppure ph e a proposito di intagli le viti che vengono mandate hanno lo stesso intaglio ovviamente quadrato e poi una particolare punta di trapano che ho già messo sul mio avvitatore che a questo stop con un grano con l'intaglio a brugola è ovviamente viene mandata anche l'apposita brugola per poter regolare la profondità la particolarità di questa punta come vedete il fatto che abbia l'estremità più sottile e questa parte invece che la classica punta di trapano un po più grande perché va a formare sulla superficie del legno un invito per poter nascondere la testa delle vite e questo invece crea il preforo per poter far passare la parte filettata allora passiamo direttamente però a vedere lo strumento serve quindi a realizzare dei fori nascosti dei fori a tasca che permettono di unire il legno in modo che gli stessi fori non siano visibili perché se dobbiamo unire delle tavole molto grandi fra di loro dobbiamo utilizzare una vita che passi da parte a parte e raggiunga la tavola successiva che si tratta di pochi centimetri si può fare ma quando si tratta di tavole da 30 40 centimetri il discorso diventa improponibile quindi bisogna forare trasversalmente in modo da interessare le due tavole che vengano unite fra di loro passiamo direttamente alla pratica lasciamo da parte la teoria e vi faccio vedere l'utilizzo nel modo corretto allora prendo due pezzi che ho già preparato si tratta quindi di questi due pezzetti di legno che utilizzeremo per fare le prove allora vediamo innanzitutto come è composto lo strumento abbiamo la possibilità di utilizzare questa morsa per tenere fermo il pezzo qualora stiamo montando questa dima su un banco quindi postazione fissa ma possiamo anche spostarlo portarlo in giro nel laboratorio se stiamo lavorando in esterno possiamo trasportarlo con noi oppure possiamo utilizzare direttamente una parte che si stacca semplicemente svitando il pomello di destra ed il pomello di sinistra in questo modo potremmo trasportare il pezzo principale ci consente di eseguire le lavorazioni per esempio su mensole oppure su altre parti dove effettivamente tutta la dima non arriverebbe adesso vi spiegherò anche alcuni dettagli interessantissimi di questa parte perché ci permette di ottenere dei risultati che in altri modi non potremmo ottenere allora da questa parte con questi fori che escono in diagonale la punta entra da questa parte la punta è dotata come dicevo poco fa di questa parte più sottile entrando da questa parte fuoriuscirà e quindi praticherà il foro seguendo questa angolazione noterete che sulla superficie sono riportate dei riferimenti sia con misura millimetrica che con pollici e frazione di pollici sia su questa parte che su tutta la superficie quindi proviamo a fare dei fori a tasca su questi pezzi da circa 20 mm abbiamo 18 mm quindi dobbiamo impostare il nostro strumento per poter lavorare nel modo corretto basterà semplicemente svitare leggermente questi pomellini fare scorrere verso l'alto come vedete qua abbiamo 19 la misura deve essere o identica o leggermente meno della misura del pezzo che dobbiamo forare quindi in questo modo va più che bene stringiamo abbiamo altri riferimenti da questa parte un millimetro e meno rispetto ai 19 mm e adesso questo pezzo va stretto nella morsa per poter fare ciò abbiamo la possibilità di utilizzare questa parte filettata che entra ed esce in questo cilindretto e quindi si avvicina più o meno a pezzo bloccandolo in modo saldo quindi in questo caso come vedete non abbiamo la distanza sufficiente per poterlo bloccare quindi cosa facciamo apriamo leggermente svitiamo ci avviciniamo in questo modo viene bloccato per evitare di perdere la misura e quindi doverlo regolare ogni volta abbiamo questo contro dato che mantiene fermo questo pezzo ed evita che si sviti si stringe per bene ok adesso possiamo utilizzarlo senza problemi vi faccio vedere direttamente l'utilizzo perché vederlo all'opera ci permette di renderci subito conto della potenzialità però abbiamo detto che dobbiamo regolare questa profondità basta quindi inserire la punta di trapano all'interno di questi fori e fare in modo che tramite questo stop la punta sfiori la superficie quindi usiamo la brugola in dotazione in questo modo siamo molto vicini alla superficie ma non la tocchiamo quindi posso stringere e abbiamo la distanza corretta per praticare il foro senza utilizzare riferimenti riportati sulla base questo lo trovo molto molto più pratico perché siamo sicuri che prendendo la misura in questo modo non toccheremo mai la base quindi riposizioniamo il nostro pezzo inseriamo la punta nell'avvitatore e vi faccio vedere qual è il modo corretto per poter praticare il foro quindi si imposta l'avvitatore oppure il trafano alla massima velocità dopodiché si inserisce la punta all'interno del gig quando capiamo che la punta ha toccato la superficie torniamo leggermente indietro avviamo la rotazione e quindi possiamo praticare il foro ok guardiamo il risultato come vedete abbiamo un foro perfetto eseguito a regola d'arte pulitissimo che ci permette di passare con la vite da questa parte a questa parte quindi realizzare un'aggiunzione in questo modo con dei pezzi che siano perfettamente allineati fra di loro e che abbiano una tenuta molto salda ora non fate caso al fatto che questi due pezzi non siano tagliati in modo corretto ma quello che interessa a noi è il concetto quindi prendiamo una vita che come vedete ha una particolarità quindi a questa parte piatta che deve andare a combaciare perfettamente con la parte piatta che si trova all'interno del foro se utilizzassimo una classica vite che alla svasatura purtroppo tenderebbe leggermente ad allargare non accade nulla se non si fa una forza eccessiva però con questi siamo molto più sicuri tra l'altro la vita è più indicata per questo tipo di giungione dovrebbe avere la parte filettata solo all'estremità e non nella parte centrale perché altrimenti farebbe presa sia su questo pezzo che su questo pezzo e quindi non riuscirebbe a stringerli fra di loro si possono utilizzare ma diciamo in modo corretto è questo allora guardiamo adesso come si avvita utilizziamo questo inserto più lungo del normale ed è così lungo proprio perché dovendo abitare in questa posizione se utilizzassimo un inserto troppo corto il nostro mandrino andrebbe a sbattere sulla superficie in questo modo invece riusciamo ad abitarlo mantenendo la giusta distanza uniamo i pezzi fra di loro vedete qui sono distanti se io continuo ad abitare adesso questo pezzo verrà tirato contro questo pezzo perché nella parte più vicino alla testa non abbiamo la filettatura ok in questo modo si è abitato adesso abbiamo un'ottima tenuta ovviamente non sarà mai la tenuta che avremo quando uniamo dei pezzi fra di loro con una vite che attraversa la superficie da parte a parte in questo caso ovviamente al centro quindi la resistenza del legno sarà dimezzata perché avremo solamente alla metà dello spessore comunque ci permette di ottenere questo tipo di giunzione per esempio nel caso in cui dobbiamo abitare una menzola all'interno di un armadio tutto sarebbe nascosto e non si vedrebbe tra l'altro in commercio ci sono delle spine particolari per poter dappare i fori a tasca ma si può utilizzare una classica spina per legno poi tagliarla con una sega giapponese in modo che tutto non si veda ma se si tratta di un punto nascosto si può lasciare anche in questo modo come avete visto però abbiamo più riferimenti abbiamo anche più fori e quindi abbiamo queste freccette sulla superficie che ci indicano il centro sia tra questi due fori che tra questi due fori ma anche il centro fra questi due quindi abbiamo diversi riferimenti e serve poter praticare i fori alla stessa distanza prendendo il centro della tavola preventivamente questa tavola ad esempio è da 60 mm quindi ho praticato il segno al centro esatto quindi potrei utilizzare il centro esatto sfruttando il segno di questa freccetta centrale e fare un foro a questa estremità oppure a quest'altra estremità però sarebbe un pochettino azzardato perché siamo un po troppo al limite quindi potrei posizionarlo per esempio in questo modo e praticare il foro con una distanza che sia meno vicino all'estremità quindi facciamo questa prova e vi faccio vedere anche un'altra giunzione praticando due fori vi faccio vedere anche la giunzione a 90 gradi allora i due fori riusciti perfettamente tra l'altro è uno strumento sicuro perché è impossibile che la punta di trapano colpisca le nostre dita ovviamente quando è posizionato così sul gig quando si utilizza manualmente come vi farò vedere fra poco è sempre meglio non mettere mai le mani in direzione della punta perché se dovesse scivolare potrebbe colpirci comunque torniamo a noi vi faccio vedere l'aggiunzione a 90 gradi quindi posiziono le viti in anticipo non stiamo molto a curare la precisione perché solo l'esempio spero si capisca bene spero che mi riesca pure bene ok e questa quindi è l'aggiunzione realizzata con i fori a tasca anche a 90 gradi ma vi ho detto che vi avrei parlato dell'aggiunzione per esempio una struttura che già faccia parte di un progetto e che quindi sia impossibile da poter emettere in questa morsa nel caso in cui si verifichi una situazione di questo tipo basterà semplicemente svitare questi pomellini e utilizzare questo accessorio che si può mettere in due posizioni o in questo modo come vedete abbiamo questa sporgenza verso l'alto perché voglio simulare una situazione nella quale dobbiamo abitare una mensola su una superficie e questo andrebbe da ostacolare perché farebbe spessore quindi puntato verso l'alto possiamo metterlo in questo modo e praticare i nostri fori ma se noi vogliamo utilizzarlo invece su una mensola che dobbiamo preparare allora in quel caso dobbiamo posizionarlo con questa parte rivolta verso il basso quindi per questo tipo di situazioni con questa battuta rivolta verso il basso possiamo utilizzarla per posizionarla in modo che ci faccia dal riferimento è ovviamente la dima andrebbe fissata andrebbe fermata con un morsetto sulla superficie quindi potremmo praticare il nostro foro in questo modo ma facendo sempre attenzione a dove mettiamo le mani perché un errore di calcolo o comunque una svista potremmo anche ferirci e sicuramente con una punta di trapano ci si farebbe tanto male quindi le mani sempre messe di lato poi voglio farvi vedere questa parte di colore rosso che l'alloggiamento per l'aspirapolvere perché come vedete si sono formati tantissimi trucioli utilizzando un aspiratore collegato a questo accessorio ci permetterebbe di avere le superfici pulitissime dall'inquadratura può sembrare che la mano sia in direzione della punta di trabano in realtà il dito rimane molto indietro quindi faccio un foro all'estremità più distante e vi faccio vedere il risultato anche in questo caso un foro a tasca che ci permette di unire i pezzi quindi se si trattasse di una mensola girandola in questo modo riusciremo ad avvitarla un sistema pratico e rapido come vedete che ci permette di ripetere i fori sempre alla stessa distanza e nel caso in cui ad esempio il pezzo sul quale stiamo lavorando per un motivo qualunque dovesse danneggiarsi ripetendo un riferimento nella zona centrale avremmo i fori a tasca che coincideranno sempre nello stesso punto quindi possiamo utilizzare i pre fori della vita precedente sulla struttura nella quale stavamo lavorando pur utilizzando un pezzo nuovo perché la freccetta ci permetterà sempre di posizionarlo in modo che la distanza dei fori sia quella tra l'altro struttura completamente in metallo robustissima e che prevede come vi dicevo poco fa il fissaggio su un piano di lavoro grazie a questi fori con queste svasature che hanno l'invito per accogliere la testa della vita che come vi dicevo solitamente a una svasatura ed è la stessa svasatura che poi porterebbe ad allargare il foro a tasca se praticato con delle viti che abbiano questo tipo di testa come vedete in questo modo la testa della vita viene accolta nella svasatura per quanto riguarda lo strumento avete visto è molto pratico veloce fatto bene robusto tra l'altro tutti i meccanismi sono studiati in modo da poterli eventualmente sostituire nel caso in cui per una ragione qualunque ne avessimo necessità sia per quanto riguarda la struttura principale che per quanto riguarda quest'altra parte quindi abbiamo tutti i pezzi che possono essere sostituiti e regolati tramite delle semplici viti e anche l'adattatore per l'aspirapolvere si può rimuovere nel caso in cui si voglia utilizzare come vi ho fatto vedere poco fa perché possiamo utilizzare un morsetto ma sicuramente questo ruba spazio ed è più sicuro utilizzarlo con più spazio a disposizione e allora ragazzi anche questa volta enjoywood ha creato un prodotto che funziona bene alla portata di tutti perché non ha un costo eccessivo ripeto sfiora il professionale è un prodotto fatto bene tutto in metallo che come vedete come avete visto permette di ottenere dei risultati eccezionali pulitissimi quindi di unire delle tavole fra di loro con i fori nascosti ma questo non ho detto già durante la recensione quindi sorvoliamo questo dettaglio il prodotto effettivamente è valido studiato bene con tutti i movimenti fluidi tutte le parti intercambiabili ci consente di ottenere dei risultati che diversamente non si potrebbero ottenere di store cinesi che propongono strumenti che in foto sembrano eccezionali ma che poi non avete idea quando vi arriva come saranno ecco questo fa la differenza ma vi lascerò anche un link giù nel primo commento nella descrizione associato ad un codice di sconto almeno spero che di riuscire ad ottenerlo in modo da farvi risparmiare qualcosina non mi rimane che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione lì su cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche iscrivetevi al gruppo dedicato agli inciso di laser ci vediamo tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto